oh e via ma l'avete vista che c'era una macchina di sullo? avete vista che c'era una macchina di sullo? e non si che gente! non è proprio il fatto non mi hai frega niente ah ho un altro ma cos'è che io ho detto ma siamo in doppia scusa ah si per andare da da suo nonno quando tu te ne vai quando noi ci diamo una grafica tua, tua nonna qua, e vieni su una macchina città così, qua, la mia...